Musica Hello guys, Ragnana here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Siamo ancora nella libreria e io sto ancora cercando di fare questo cazzo di salto Che ormai proprio non mi viene più Cioè vorrei capire come è possibile Chi è la mente malata che ha fatto questo cosa? Cioè io vorrei dire, sono io così scarso nel parkour o è un salto comunque difficile? No, perché ditemelo, perché se sono io così scarso nel parkour però dovresti saltare quando te lo dico Personaggino, eh? Snake? Eh? Snake? Cosa mi guardi con quei tuoi occhi, eh Snake? Ah, andata Snake Andiamo, continuiamo, non prendiamocela con Snake Power Snake è solo una semplice spia Una semplice spia Andiamo, andiamo, andiamo Comunque, ma di qua si vada No, non si va, eh Ma non si può fare abberviare il salto tipo lì? Ah, per poco Secondo me si può fare Secondo me si può fare Eh, ma da lì poi cosa facciamo? È sbagliato comunque No, 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 no Allora Facciamo così Niente, niente Ce la possiamo fare Ce la possiamo Fair, 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 fair Fairplay lo chiamavano Allora Andiamo di qua Allora Ok 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 Eh, perché c'è quella cazzo di regnatele? Ecco perché non riesco a fare quel saltino Perché appena vado indietro Si impiglia il coso là dentro Quindi È un macellone Niente Adesso me la faccio tutta con la visuale bassa Così mi guardo bene i cubi quando salto Così Ok Vediamo se Questo può essere il trucco dell'esperto No, non è vero Assolutamente È una stronzata È una stronzata Basta il tempismo del parkour E io dovrei averne un po' di tempismo Domination Ehm Brothers Se mi gira Stoppo E ci arrivo Off camera Così non vi Non vi annoio ulteriormente Non vi annoio ulteriormente Stoppo e ci arrivo un attimo off camera E due secondi Ci rivediamo un po' più su almeno Ok Bro Allora siamo qui Andiamo Andiamo Facciamoci questo saltino Ok Allora F5 No F9 F5 Ok Allora Fino a qui posso starci Sì 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 Ok Ma perché 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 Mi vado a piangere È un salto semplicissimo quello Perché sbaglio Dai Dannazione Devo prendere più rincorso Devo prendere più rincorso quel cubo Ormai ho capito come funziona Quindi facciamo così Fermi Ormai ho capito Ormai ho capito Ecco visto Ce l'ho fatta Allora Allora Fermi tutti No La ragnatela Dannata Ragnatela Damned Damned Ragnatela Allora Fermi 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 Arriviamoci Arriviamoci Stop Ci riarrivo Ci riarrivo E due secondi Ok bro Ok Ok Siamo di nuovo qui Siamo di nuovo qui Possiamo farcela Ok Sì sotto Lì Sì 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 abbiamo perso due puntate Ma ce l'abbiamo fatta Ma Hai notato le armi ragnatele Sì che le ho notate Dannato stronzo Sì che le ho notate Tu le tue ragnatele mi hai fatto perdere Non so quanto tempo Ehm No Come ci arrivo lì Da qui C'è neanche una cosa semplice Per andare alla solutions Ok Ok Le ragnatele Vi odio Vi sto odiando Ottimo Tira la leva E apre l'unica via di uscita Ok Prendiamoci la nostra leva Abbiamo fortunatamente finito Questo delirio Chiamato livello Di parkour Mio dio Spero non ce ne sia uno più difficile Sull'altro Nell'altro Piano Penso sia l'ultimo piano Anche perché aveva fatto Ehm Lapislazzuli Oro Diamante sarà l'ultimo No Quindi Dovrebbe essere l'ultimo Via di uscita Up Arriviamo Via di uscita Wow Stiamo morendo Stiamo morendo Stiamo morendo Stiamo morendo Stiamo morendo Non stiamo più morendo Prendi qualche minecart Fatto O almeno Ricorda dove trovarli Io prendo un po' di minecart Cioè mi faccio proprio la scorta Ok Ok Dobbiamo andare qui Metterci qui No No Ok Ok Yes Tatatero Tatatata C'è la giriamo Che bella la colonna di lava Ci piace Yuhuu Yuppit Aia Ma potevi farmelo normale il passaggio No eh No eh Allora Leva Qui Biblioteca parkour Ce ne manca uno Che è il codice segreto Allora Il codice segreto Abbiamo Tutta la puntata davanti Per farlo Adesso lo riprendo sotto mano Dovrei averlo ancora appuntato Sì Eccolo qua Vediamo come farlo Allora Io sono convinto Che sia Numeri alterni Così No eh Quale può essere la combinazione Brothers Mannaggia Davvero Perché E C'è Allora Il numero Principale E' quello C'è E' 98 72 Ormai la sua memoria 72 13 32 15 E non va Allora A meno che Non è tipo Una Un'operazione No Tipo 9 Più 8 Più 7 Più 2 Più 1 Più 3 Più 3 Più 2 Più 1 Più 5 E potremmo anche provare a farla Volendo Ma Allora Sarebbe 17 24 26 27 30 33 35 36 41 Questa sarebbe l'addizione di tutti i numeri E non è Ok Perfetto Se facciamo Se facciamo 9 9 8 E 1 7 Non si può Fa Quindi no Se le addizioniamo in coppia O le sottraiamo in coppia No Troppo complesso Troppo complesso 8 2 3 1 5 2 No 8 2 3 2 1 5 Niente 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 Non va Non va Non va Non va Ok Ci rifletto un po' su E poi riprendiamo Dai cerco la combinazione Vediamo un po' che cosa esce fuori da ore e ore di ragionamenti A dopo Ok guys Allora Ho provato il codice Il codice Il codice E poi mi sono girato Ho detto Ma Non è che Visto che quello mi sembra parzialmente un 8 E quello tipo Una specie di 2 E questo una specie di 5 Sarà quella E davvero Se è così Io mi incazzo Io mi incazzo Come una bestia Ci ho portato 6 anni Complimenti Siamo riusciti a decifrare il codice Grazie Ti odio Va grazie Ti odio davvero tanto Andiamo su Andiamo su Andiamoci a leggere la fucking storia dell'ultimo piano Mi sa che sarà qualcosa di impressionante Oh che figo Mi piace l'azzurro del diamante Allora Vediamoci la storia Poi chiudiamo la puntatona E ci facciamo l'ultimo piano Nella prossima puntata Grazie al cielo Ce l'hai fatta Avanti Manca poco E saremo liberi Guardando verso l'alto Vedo solo le nuvole Se riuscirei a sopra Le prossime prove Arriveremo nella nostra libertà Ah ok c'è l'accento E potremmo tornare al nostro villaggio Non vedo il solito numero Ah no Aspetta Eccolo qui E' contorto Sembra un 29 Ok Quindi appuntiamo un 29 Alla fine Di quei numeri Probabilmente Serviranno a qualcos'altro Allora Allora vediamo un attimo Facciamo così Perfetto L'ho appuntato Abbiamo La pozione della morte E quando si parla di pozioni Già sono le merda Salti a vuoto Sarà parkour Giochi di primavera Non so cosa sia E il labirinto Alla follia Un labirinto Io direi che La prossima volta Iniziamo direttamente Dal labirinto E poi dal parkour Poi gli altri due Mi sa che sono i più difficili Ce li teniamo per ultimi Quindi ragazzi Lasciamo un mi piace Un commentino Seguitemi sulla pagina facebook Per tutti gli aggiornamenti Di questi giorni E niente Enjoy E carina Siamo con voi Bye bye